Ciao Davidi! Lo sai che appunto quel ragazzo ci è venuto a dare queste piccole apine di simo, come puoi vedere. Sono molto carine, sono anche belle. E io ho fatto una specie, specie, specie di video con questa apina. Te la faccio subito vedere. Atto numero uno. Oh guarda, ma una bellissima apina. Oh che male, mi appunto. Spirazione di atto primo. C'è apina che vola. Quando apina vola, c'è mia che vede apina. Dice, wow che bella apina. Poi dopo apina è infastidita e punge è mia. Dopo apina continua a volare e muore. Atto numero due. Ah, è una bellissima stupida, mi ha fatto male. Dai, ma sarebbe male. Una apina, via, 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 corri, 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 corri. Spiegazione di atto numero due. Spiegazione di atto numero due. Mia piange perché apina lì appunto. Poi arriva altra apina e mia scappa perché a mia non piace apina più. atto numero tre. Ma guarda che carina questa puccina, paffita, paffuta apina. Vola apina, vola. Spiegazione di atto numero tre. Mia trova apina che sta volando. Poi apina si posa sulla sua mano di mia. E mia non ha più paura di ape. Ultimo, atto numero quattro. Buongiorno. Guarda, che bel fiore che c'è. Via, brutta apina, via, 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 via. Oh, ma guarda. Adesso lo prendo proprio questo fiore. Tanto la apina è volata via. Aia, 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 aia. Che cosa mi ha appunto? Un'altra apina. Brutta, stupida apina. Spiegazione e atto numero quattro. Mia vuole raccogliere un fiore. C'è apina sopra. Caccia apina. Ovviamente. Poi, dopo. Finito. Ma questo è che cosa? Quello è il pappareale. Mia. Trova. Fiore. Mia vuole raccogliere fiore, ma c'è apina sopra. Mia caccia apina, perché la apina le stanno su palle. E allora, poi, mia caccia apina, ma c'è anche apina sotto fiore. Quindi, mia raccoglie fiore, ma poi mi ha struttato apina sotto. E allora, apina punge su dito mia e mia brutta. Uccide ape. Ecco. Pubblicità! Ciao! Sono Mia, dell'Associazione Apicoltura da Api. Buonasera. Allora, come potete vedere, oggi vi farò vedere vari prodotti nostri. Questo, ad esempio, è un dispenser. Molto pratico e genuino. Chiudi. Se vi è fatto piacere, seguirci su Apicoltura da Api. Seguiteci di Mansi di Mona. Seguiteci, siamo in Via Vigne, 27A. Siamo a Comedio, in provincia di Varese. Sono due numeri. 349-855-9090. 347-75-060-290. Poi, seguiteci anche su Facebook. No, no. Info. Che cos'è quello? Info. La mail. Seguiteci anche sulla mail. Info, chiocciola, apismellifera.it. E anche seguiteci su Facebook. Ips, due punti, slash, www, facebook.com, slash, apismellifera.it. Poi, se volete seguirci anche sul nostro canale, mi raccomando, non mancate, mettete mi piace e mettete anche una bellissima visualizzazione. E anche, iscrivetevi. Iscrivetevi. Ciao! Ritorniamoci! Allora, basta! Bastati! Bastati! Allora, vi saluto e ciao! Allora, vi saluto! no